Hai fatto la grado di inizio? Bene! Parli italiano tu, bella ragazza? Si! Come ti sei truccato? Bella? Mai visto un trucco bello così? Bello, bello! Che cosa hai usato? Che umbretto hai usato, Rose? Rose Marie, che cosa hai usato? Che umbretto hai usato, amore? Bello quel umbretto! Ia fa vedere le orecchie! Amore! Fa vedere le orecchie! Fa vedere le orecchie! Fai vedere le orecchie! Fai vedere le orecchie! Non ci vediamo più! Fa vedere le orecchie, dai! Fai vedere le orecchie! Rose, di chi ti piace? Biancaneve o Rapunzel? Biancaneve! Perché? Perché io sono più... La mamma malefica non la posso usare! No? Ma perché Rapunzel non ti piace? Cioè, ti piace anche Rapunzel? Si! Ma dopo chi ci sono ancora? Rapunzel e chi? Barbie! Ti piace anche Barbie? Ma ti piace anche Minnie, vero? Vero! E ti piace anche Cicciobelo, vero? Si! Ma la più che ti piace chi è? Biancaneve? Si! Ma perché è bella? Si! La sua mamma è la più cattiva del mondo! L'hai vista? Si! Ma dai, perché è cattiva? Perché le dà da mangiare una mela? Si! Che le fa male? Si! E' vero, si! Si! Senti, ma la biancaneve è lei che ha i petici, ha i nani? Si! Quanti nani ha? Poi il piccolo, il medio e il grande, quello è il più piccolo, perché è il più piccolo dei sette nani, perché l'altro più grande è un po' più cattivo. Ah, e tu? E' biancaneve è un po' più buono, ma la sua mamma, malefica, si trova in forma, non è una vecchia. Ah, e tu? Senti, Rosi, ma ha il principe? Si! Si? Si! Beh, ma c'era anche il castello. Hai tu? Ma racconta di sua mamma! Beh, poi beve un tipo di gusto, poi si fa mentolanto, poi lei si trasforma. Si? Si! In che cosa? Il... ma io non devo vederla. Ah, si? Si, perché dopo la... La soni? Si! Ma perché è la mamma cattiva lei? Perché è così. Ma lei è bella, vero? Si! Ha le scarpe belle? Si! E' tutta bella, no? Si! E dopo di chi ti piace ancora? Mmm... non lo so. Ma Rapunzel? Si! Perché ha i capelli lunghi, vero? Si! Ma cadono anche per terra. Ah, e tu? Così lunghi li ha? Si, così. Si vede che lei si lava con un shampoo buono, vero? Si! Che shampoo usa lei? Lei usa quello lì. Che shampoo ha Rapunzel? Ehm... Un shampoo buono, vero? Si! Ehm... Il mio shampoo quale le l'ho regalato? Si! Ah! Le hai regalato tu il shampoo? Madonna! Beh! Oh Rapunzel! Vedi che ti ha regalato Rosemarie il shampoo. Quindi... Non fare figa al giro e dire che hai tu un shampoo, eh! E' vero! E' vero! E' vero Rapunzel! Eh Rapunzel! Eh! Eh! Scusa Rapunzel! Eh! Scusa Rapunzel! Ahahah! Ma che hai detto Rapunzel? Ma che schifo? Madonna che schifo! Ahahah! Madonna che schifo! Ahahah! 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 Ma Rapunzel! Ma Rapunzel! Ma Rapunzel! Ma come fai a dire che è il tuo shampoo? Ma tu come fai eh? Il shampoo di Rosemarie! Sì! Ah helt! Ahahah! Guarda coi Niye truccata Rosemarie! Che prima era un po' peggio, eh! E? Sì, è un po' peggio! Rosè, ma dove hai trusso di macchia? Dov'è la tua posa? Qua, oddio devo guardare il buco, non so dove. Qua si trucca, ora aspetta che arriva con la borsa, aspettate un attimo. Fai vedere come si trucca, perché guarda che non tutte le ragazze sanno come si truccano. Ah Susana, ammortasci della tua città, se tu sai come si trucca, guarda qua come si trucca le ragazze. Fa vedere, fa vedere. Fai vedere la trussa. E chi ha questa roba bella? Si apre, vero Rose? Come si apre? Così. Fa vedere. Eh, madonna mia. Così si apre. Si vede, bella, bella. E come ti stai truccata tu? Fai vedere che adesso ti... Vedi che ti aiuta. Ah, va bene. Già truccati. Beh. Beh, fai vedere come si fa. Allora... Te lo tengo io? Così. Te lo tengo io? Metti un po' qua. Metti quello blush, no? Rosa. Sì. E dopo? Eh, madonna mia. Poi si fai. Eh, tu, madonna, guarda. Magari. Eh, bello, bello. Poi? Poi lo metti là. Poi chiudi. Eh, tu? E dopo? Sei a posto, vero? Ti guardi in specchio, vero? Sì. Sei a posto? Sì. Eh? Così si fa, vero? Eh? Ah, Rose. Oh, c'è, chi non lo sa truccarsi, bisogna che vieni qua da Rosemarie. Vero, Rose? Fai vedere ancora come si fa. Ma fai vedere quelli colori scuri. Vediamo. Vediamo un po'. Sì, dai. Ce l'abbiamo scuri. Sì, anche quelli più scuri, non solo quello rosa. Fa vedere anche questi primi di qua. Beh. Ia, fai sull'occhio. Sono un po' scurino. Eh? No, sì, ma prendi e fai sull'occhio. Ma guarda che zia. Ia, ia fai. Beh, è un po'. Come si fa? Ah, bello. Solo sopra. Solo sopra si dà? Sì. Puoi fare anche un po' di nero. Eh? Beh, puoi fare anche tanto nero. Ah, bello, bello, bello. Magari, guarda, magari sapessi andare da domani in palestra. Solo così vado. C'è, madonna. C'è, vado io così. Qua è schifo. Guarda roba. Eh? Eh, madonna mia. Bello, bello. Beh, io sono di rock. Beh, io vado alla piazza di rock oggi. Vai a piazza di rock? No, io vado a fare il canto di rock oggi. Ah, e tu? Bella, bello. Guarda anche schifo ha buttato giù. Beh, io devo andare con queste perché hanno il top. Rosemarie, però, non hai detto alle ragazze, ma la biancaneve è truccata. Poco, vero? Sì. E ci ha messo nero come te, vero? Sì. Perché io non devo portare le bambole. No? No, devo prendere la mia chitarra. Allora, io, io canto al piano. Ah, e tu? Al piano o alla chitarra? Al piano. E fa vedere. Vengo subito da fare un rock. Bene, ragazzi. Se non sapete come si trucca, suonate al nostro campanello. Perché noi adesso aspettate al rock. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Fa vedere, fa vedere, ragazzi. Pronta la patta. Pronta. Pronta la patta. Ah, Rosy. Va bene, dì ciao, Rosy. Rosy, dì ciao. Ciao. Bravo. Ciao, gente.